In occasione del secentesimo compleanno di Sigismondo Pandolfo Malatesta abbiamo deciso di proporre una mostra che mette in luce due diversi approcci di ricerca sullo studio degli abiti antichi, su fonti materiali quindi della fine del Medioevo, in particolare dell'epoca di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Le terre malatestiane offrono due eccellenze che mostra dialogano tra loro. Un raro farsetto del Quattrocento ritrovato indosso alla mummia di Pandolfo III, signore di Fano, padre di Sigismondo, e il MotoGP, rappresentato da piloti, ingegneri, designer che dalle terre malatestiane tra Romagna e Marche hanno esportato nel mondo il saper fare italiano in termini di performance e sicurezza sui circuiti motociclistici. Cosa c'entra un farsetto del Quattrocento con i piloti del MotoGP? Il farsetto, che è un indumento medievale, assomiglia dal punto di vista sartoriale al giubbotto del motociclista e questo non è un caso, ma dipende dalla funzionalità dell'abito. Il farsetto, infatti, veniva indossato dagli uomini medievali sotto l'armatura per proteggere il corpo del cavaliere grazie alla sua imbottitura. Da funzionale ed ergonomico indumento militare, il farsetto passò presto nella vita quotidiana degli uomini diventando un abito di moda che gli uomini indossavano sopra la biancheria e sotto altre vesti. Al farsetto erano abbinate le lunghe calze di panno che rivestivano le gambe maschili. Il binomio farsetto e calze era molto importante e gli uomini incominciarono ad indossare, grazie proprio a questi due indumenti, abiti sempre più corti, distinguendosi per la prima volta visivamente dalle donne. La finalità della mostra è quella di mettere in evidenza l'utilità dello studio sugli abiti antichi, che può essere utile non soltanto in ambito filologico e accademico, ma può offrire degli spunti anche per la moda attuale. Ciò è stato compreso dalla Spi di Sport che ha collaborato attivamente a questa mostra realizzando, grazie al reparto prodotto e sviluppo, due farsetti del 400 che sono esposti in mostra, tra cui quello di Pandolfo III Malatesta. Le realizzazioni della Spi di che sono in mostra mettono in luce la bellezza delle soluzioni sartoriali medievali offrendo nuovi spunti di ispirazione per i cavalieri di oggi e anche per i designer di domani. Il farsetto medievale è un capo di abbigliamento molto comodo. Le ricostruzioni attestano la comodità di questo indumento che gli uomini indossavano a diretto contatto con la biancheria intima e sotto le altre vesti. Il farsetto nasce come indumento militare sotto l'armatura e quindi deve dare sia agilità al cavaliere che è seduto sul cavallo ma anche la protezione grazie all'imbottitura che si otteneva con farsetti molto imbottiti per quanto riguardava i farsetti militari. Meno imbottiti potevano essere invece quelli di uso quotidiano che sono stati ritrovati anche privi di imbottiture. Il farsetto medievale ha delle caratteristiche veramente molto simili ai giubbotti da motociclista e anche ai giubbotti che vengono usati per esempio in equitazione proprio perché si tratta di indumenti che devono avere un'ergonomicità tale per chi sta a cavallo e per chi deve compiere una serie di movimenti che devono consentire estrema agilità in particolare per chi è per esempio su un cavallo e deve brandire un'arma come la spada oppure deve tenere sul braccio uno scudo attraverso cui difendersi. Le immagini medievali, le fonti iconografiche medievali ci offrono tante informazioni visive di ciò che accadeva durante le battaglie e di tanti uomini in battaglia fanti in particolare con i farsetti o con mezze armature. Quando studiando il farsetto dal punto di vista sartoriale ci siamo rese conto che aveva delle caratteristiche formali molto simili a giubbotti di motociclista abbiamo pensato a uno dei massimi designer esperti nella produzione soprattutto nella progettazione delle tute dei motociclisti come Aldo Drudi e quando ci siamo conosciuti chiedendogli un incontro per ragionare insieme sui punti di contatto tra i nostri indumenti medievali e le tute che lui aveva realizzato e continua a realizzare per i piloti del MotoGP siamo rimasti tutti entrambi stupiti di due cose lui del fatto che il farsetto effettivamente assomigliava alle sue tute per i motociclisti noi che abbiamo imparato tramite Drudi che lui stesso si era ispirato a degli indumenti medievali già vent'anni fa per realizzare delle tute che erano finalizzate all'agilità e alla sicurezza dei piloti del MotoGP e anche se fosse un'attività che erano finalizzate all'agilità di un'attività 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 di un'